C'è un'occasione, un'occasione importante come questa, dove si prevede un reato come quello dell'omicidio stradale che è sentito veramente perché vi sono degli episodi che sono assolutamente tristissimi. Adesso ci troviamo nella possibilità di prevedere la revoca per sempre della patente, nel senso che chi si pone alla guida di un automezzo in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e con questo provoca la morte di una persona in un incidente, per noi è un assassino. E per questa ragione non può più mettersi alla guida. C'era un'occasione come questa, purtroppo il governo e la maggioranza hanno ritenuto di non approvare questo tipo di linea. Noi abbiamo proposto degli emendamenti, vediamo adesso in sede di voto cosa accadrà. Però noi vorremmo dire a questo governo e a questa maggioranza, un domani mettetevi di fronte ai familiari, al papà, alla mamma, magari di quei bambini che sono stati ammazzati da questa gente, che per noi sono dei criminali. Non basta solo la pena del carcere, ma è necessario anche che si sia adottato uno strumento di prevenzione. Cioè questi non devono più porsi alla guida.